Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono OndaTurto, siamo tornati nel Land per cercare, o meglio nel limite, non so come potete chiamarlo, per riaffrontare il Drago Vi direte, ma chi c'è? Ma l'hai affrontato nello scorso episodio? Sì ragazzi, ma chiaramente non basta, nel senso, voglio affrontarlo ancora per avere altra esperienza e per, chiaramente, oltre all'esperienza, avere un altro portale per la cittadella del Land Perché adesso vi spiego, adesso vediamo se si attiva così, ecco, si dovrebbe attivare così, perfetto Vi spiego perché, lì c'è il portale, ma quel portale lì mi porta a una isola che non è quella richiesta, nel senso, non è quella adatta, giusta, meglio dire Scusate Perché non c'è la cittadella e quindi c'erano i cazzi Adesso è tornato l'Enderdragon Senza farmi rompere il culo, vorrei cercare di abbatterlo, magari E dai, bene, esplodi Bastardo, figlio di una draga Che cazzo Va bene Quindi poi andremo anche nell'isola Ottolis E spero di sopravvivere, di farcela da solo perché Almeno ieri c'era Eric Che anche se non è un esperto di Minecraft, comunque Insomma, sempre una mano in più Quindi, niente, spero di farcela Chiaramente Niente, adesso Cerco di distruggere Questi cristalli Tra l'altro, raga, lo continuerò ad affrontare per un po' di volta Spero Cioè, penso perché soprattutto mi è utile No, cazzo Perù Perù niente Ok, ce l'ho fatta Rimangono quelle due Che sono anche le più toste Se così si può dire Sì, sì Sono le più toste Speriamo di farcela Allora Vediamo di lanciare un enderpearlà in fondo Cazzo Inutile come la merda Va benissimo Niente, non riusciamo a salire con l'enderpearl Quindi Quindi cosa facciamo? Prenderemo dei blocchi Tra l'altro io raga questo frutto di merda Che non so cosa mi possa Cioè, so che ti teletrasporta Ma Insomma Allora, vediamo di salire da qua Sperando che il bastardo non ci lanci uno dei suoi raggi schifosi Per incularci a sangue Sennò siamo nella merda Eh, letteralmente Ok Il cazzo è alta Ok, va bene Perfetto Ok, dai No raga Ho sbagliato Ho sbagliato a lanciarla Cazzo Va bene Saliamo dall'altra parte Non azzecco mai un lancio Madonna Qua tra l'altro avevo già fatto fatica l'altra volta Ok, saliamo Perfetto Perfetto raga Ora scendiamo Recupero qualche blocco Perché mi è sempre utile Ok Ok, adesso cercherò di sconfiggere il drago Bastardo Chiedere raga Io rompo il culo Con le mie frecce Tra l'altro raga Io vorrei il soffio del drago Che non so perché Non so se l'ho droppato Quando si posa centrale Possiamo colpirlo facilmente Sennò È un po' dura È un po' dura Ok raga L'abbiamo quasi sconfitto Madonna Che mira Ok, manca Poca vita Prendiamoci Sti livelli Tra l'altro Sono di meno Però Sono molti di meno Peccato A vero Non importa raga Non era Non erano i livelli Cioè Erano Un obiettivo Ma non il principale Ma vi spiego il perché Vediamo 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 Lì c'è un portale Dovrebbe essersene un altro Cazzo Non capisco Raga Dovrebbe apparire un altro portale Tecnicamente Perché non appare Perché non appare Il drago Lo sconfitto Per una seconda volta Dovrebbe apparire Un altro portale Del limite Vaffanculo E in realtà Appare solo Quello Che Cazzo Cosa succede Mi stanno trollando Raga No dai Vilo del culo Cioè io Tutto Tutto sto mondo Raga Per poi Scoprire che non c'è Neanche la cittadella Del land Vaffanculo Ah beh raga Abbiamo risconfitto il drago Giusto per dare una dimostrazione di forza A sto punto Eh già Non c'è Magari mi alzo ancora un po' Ma Mi sembra Di vedere Nessun altro Portale Per un'isola Quindi Diciamo Nella merda Eh già Per un'isola 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 Per un'isola